benvenuti nel mio magico canale ciao a tutti e bentornati sul mio canale è un po di tempo che volevo farvi vedere questo effetto magico ma mi mancava proprio la cosa principale e sono i pastelli a cera finalmente mi sono ricordato di andare a comprare e quindi vi mostro questo effetto magico tutto colorato ovviamente per colorare ci servono dei fogli un quaderno un libro e io ho qui un libro bellissimo è un libro che si chiama la magia dei colori è un libro pieno di illustrazioni di animali che adesso vi faccio vedere è completamente bianco animali non ce n'è ma essendo il libro incantato con una matita tanta magia e concentrazione vado a immaginare tutti gli animali da inserire in questo libro e tutte le pagine appaiono gli animali ma io ho comprato dei pastelli a cera quindi ci servono dei colori questo è un video magico ma è un video tutto colorato la magia dei colori infatti qui ho i miei pastelli a cera mi basta passare i pastelli a cera che i pastelli svaniscono non ci sono più perché tutti i colori si sono trasferiti su questo meraviglioso libro il libro incantato la magia dei colori spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo iscrivetevi al canale lasciate un mi piace commentate sempre le solite cose ma mi sono dimenticato una cosa perché come tutti i disegni e tutti i colori che sono apparsi possono svanire mi serve una gomma anzi no mi basta la magia e tutte le pagine tornano bianche ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video